Musica Piera, dolce Piera, il titolo di questa nuova trasmissione che stiamo per registrare con Piera, ovviamente, al Comunale di Torino. No, ricordiamoci che abbiamo anche Elena da presentare, bentornata alla nostra trasmissione, la nostra voce, nonché voce, ma conduttrice. Ecco, ecco, ciao, bentornata. Grazie, bentrovati e buon inizio d'anno a tutti. Con il calendario, siamo leggermente in ritardo, ma il calendario è pubblicato, il calendario del Canile Municipale di Torino. Sì, ce l'abbiamo, lo facciamo vedere. Per chi volesse contribuire, il calendario è disponibile qui in Canile, che ricordiamo è aperto su prenotazione tramite mail a canilerifugiochiocciolacomune.torino.it. All'interno trovate una serie di nostri ospiti che sono stati adottati durante l'anno che è passato. È un modo come un altro di sicuro per ringraziare tutti coloro che hanno scelto di adottare al Municipale, ma è anche un modo per sostenere i volontari che seguono i gatti delle colonie feline della città. Quindi chi lo volesse ritirare può contribuire portando un contributo in cibo, sia secco che umido, che noi ridistribuiremo ai volontari che seguono i gatti della città. Molti buoni motivi per varcare il cancello, la soglia del canile, ma qui abbiamo un motivo particolare di cui oggi vi voglio parlare e con la nostra copertina con la quale apriamo la trasmissione. Piera Dolce e Piera, la Elina mi ha detto no, non parliamo del passato, Piera non cammina a un problema sui posteriori, paralizzata, parliamo del futuro. Io direi parliamo del presente, Piera, perché qua è da un mese che io ti trovo bella, protetta, curata soprattutto, e ora pronta per l'adozione perché, guardate, questa sarebbe la vostra serata davanti al televisore con Piera che vi fa giocare. Vai con la storia di Piera, però, con Cosettina ci devi dire, ci devi svelare. Piera è stata un po' sfortunata perché ha incontrato nella vita delle persone che non hanno capito la sua bellezza e la sua bontà, ha circa un annetto, in questo momento è paraplegica da trauma ed è un trauma che non è recuperabile, però è molto dolce, è molto docile, è molto educata e ha una forza comunicativa, come potete vedere, che straborda, nonostante la sua invalidità. La condizione fisica un pochino la limita, però è un cane che sicuramente manifesta le caratteristiche della razza perché, come potete vedere, usa abbastanza la bocca, ma senza mai esagerare. Le piace molto il contatto, come potete vedere, gioca volentieri anche con chi ha appena conosciuto, accetta con tranquillità la manipolazione, anche questo lo potete vedere bene, e così sarà anche più facile posizionarla sul carellino perché Piera va sul carellino. Perché adesso parliamo di carrellino. Adesso stiamo valutando con la fisioterapista di farle un bel carrellino ad hoc, in modo che sia suo personalizzato e sarà anche più facile per lei utilizzarlo, e poi soprattutto Piera è in grado di espletare le sue funzioni in totale autonomia, che è un'altra cosa da non sottovalutare. Una famiglia con un pochino di pazienza e con molto tempo a disposizione, però è uno spettacolo di cane, secondo noi. Quindi venite a conoscerla qui al municipale di Strada Quornie 139. Bene, male, perché la scorsa trasmissione non ha dato frutti. Ieri abbiamo presentato in una trasmissione un unplane, oggi 1-0 assoluto. Vi riproporremo gli amici presentati nella scorsa trasmissione. Vi ricordo che si gioca sempre in due, quindi i giochi si condividono innanzitutto. È andata molto male dunque la scorsa trasmissione. Mi dispiace perché questo canile io lo considero uno dei viali più interessanti della nostra città, perché ha un sacco di amici che potreste venire a conoscere, soprattutto in periodi passati e presenti come questi, che ci hanno costretti all'isolamento, giusto? Sì, noi abbiamo cercato di rimanere aperti il più possibile. C'è un percorso di educazione che adesso vi segue e vi aiuta a trovare il cane adatto per la famiglia che siete. Non mancate di venire a trovarci, ci sono anche i nostri amici gatti. Noi siamo qui, scriveteci, vi aspettiamo. Bene, diamo via il via alla rassegna. Mi raccomando, Dolce Piera è qui che vi attende con una montagna di baci, coccole e di attenzione. Ok, partiamo. Joker è il suo nome, il mantello è nero. Altre caratteristiche positive? Allora, caratteristiche positive è che è un cane relativamente giovane, perché è del 2014 e che è un cane adottabile da subito, anche in famiglie con bambini, sia in appartamento che in giardino. Ha instaurato ottimi rapporti con la sua compagna di box, per cui possiamo dire che va d'accordo sicuramente con i cani femmine e tende un po' a competere con i maschi, con cui potrebbe essere difficile la convivenza, però come potete vedere è un cane anche molto ubbidiente e che si affida perché è un cane aperto. Ringraziamo anche Jacopo che è l'accompagnatore, che sfilerà i nostri cani. Importante comunque il linguaggio del corpo tra i messaggi che si trasmettono i due, il responsabile e il nostro amico, perché dicono delle cose questi messaggi. Sì, qui è più facile perché loro si conoscono già, i nostri cani sono abituati agli operatori, perché i cani in canile non hanno moltissimo, nel senso hanno gli operatori, hanno i volontari, hanno la passeggiata, la cuccia e la pappa e quindi sono cani che sono abituati ai minimi termini. In una famiglia c'è bisogno di un tempo per l'adattamento, ma poi sicuramente si può ricreare un rapporto di fiducia perché questo è un cane molto aperto e a cui si riescono a spiegare e a far fare anche molte cose, perciò venite a conoscerlo al canile rifugio di Strada Cornier 139. Per fortuna Rosso non sa contare, è in canile dal? 2007 e lui è nato nel 2005. Dunque, quanti anni ha? Non troppi per trovare la famiglia adeguata, quindi cominciamo bene il 2021, lui è un bel pastore sterilizzato, quindi questo aiuta la famiglia, è un cane abbastanza tranquillo, è molto rispettoso, molto in forma vista l'età, ama ancora fare le passeggiate, è molto curioso, come potete vedere gli piace esplorare, è educato il giusto, non è per niente disponibile a condividere i suoi spazi con i suoi simili, lui è un figlio unico, anche perché data l'età è diventato anche un po' brontolone, quindi dovrebbe essere adottato come cane single, però sarebbe bello potesse trovare dei compagni di vita umani dopo tanti anni passati qui in canile. Venite a conoscerlo, Rosso vi aspetta al municipale di Strada Cornier 139. Per la serie i diritti della terzietà, grazie. Eh sì, io lo sapete, spendo sempre non troppe parole, però gli anziani per me sono speciali e quindi ci provo sempre, se qualcuno si appassiona a questo sguardo stupendo, io lo trovo bellissimo, perciò venite a conoscere Rosso. Il suo nome è Baldassarre, non è un ragazzino, le feste lo hanno ingrassato un pochetto. Come tutti, dopo la Befana comincia la dieta, anche lui ha deciso, adesso comincia, quindi l'ideale sarebbe venirlo adottare, magari per chi ha intenzione di iniziare una dieta così ha un compagno ideale per il percorso, lui ha 13 anni ma non li dimostra, è un soggetto come potete vedere molto serafico e riflessivo ed è sicuramente un soggetto perfetto per passeggiate rilassanti, con qualche pausa di riflessione, qualche foto, è consigliato per condividere questi momenti un po' bucolici, riflettendo anche sulla vaghezza. Ovviamente la famiglia che lo adotta dovrebbe cedere un pochino ai suoi tempi che come potete vedere sono diluiti, però in questo mondo che va di corsa anche uno come Baldassarre deve avere il suo spazio, secondo noi. Tra l'altro è un cane che quando è ora si sa fare ancora rispettare, non te le manda a dire, perciò venitelo a conoscere, vi aspetta in strada a Quornier 139. Dalla catena al canile, credo che Rocky avrebbe scelto il canile e alla fine ce l'ha fatta, questa catena com'era? Questa catena non era troppo lunga e quindi Rocky è finito qui da noi, come potete vedere è un fiume in piena, è appena uscito dal box, in quanto energia non gli manca come il più celeberrimo Rocky della saga, non facciamogli fare quella fine, ce ne vorranno 5 prima di trovare la famiglia giusta, speriamo di no. Lui è un bel maschio, non è castrato, è del 2017, è con noi dal 2019 e è anche un cane molto intelligente perché riesce a capire e a scindere i momenti in cui può essere riservato e quelli in cui può essere socievole. Con lui si possono fare tanti giochi, quelli più eccitanti e divertenti di cui sicuramente lui è più contento e anche quelli più riflessivi che lo aiutano a controllare meglio e ad acquisire determinate certezze. Sta imparando ad andare al guinzaglio e a condividere il box con un altro cane, quindi anche a relazionarsi con i suoi simili. La sua famiglia ideale sarebbe certo una famiglia dinamica, con un po' di esperienza e che abbia voglia di fare lunghe passeggiate perché come potete vedere ha bisogno di muoversi. Venite a conoscere Rocky. Oggi una trasmissione dedicata a loro, loro hanno bisogno di noi anche se hanno qualche anno in più, cara Elena, vero? Però una casa, calda, tappeto, qualche altro ingrediente. Sì, abbiamo fatto questa scelta per l'inizio dell'anno di cominciare con qualcuno dei nostri anzianotti, lei è Diana, ha 13 anni, è un'amstaff, magari per chi non ha mai avuto un molosso e vuole approcciare alla razza o per chi semplicemente vuole arricchire la famiglia di un bel membro. Lei è la nostra dea del canile, è molto docile come potete vedere e anche una con un caratterino perché la sua razza comunque scorre nel sangue, è un pochino bisbetica visto l'età, ha qualche acciacco, però noi ci proviamo fino alla fine. Questo guinzaglio lo lasciamo lento comunque perché come la nostra Piera all'inizio, io l'ho appena conosciuta, Jacopo mi ha detto vai tranquillo, io sono molto tranquillo e quindi nessun problema e voi non avrete problemi a portarvi a casa Diana e niente, grandi cose. Sì, venitela a conoscere, vi aspetta qui per un percorso seguito, un paio di incontri, ma con Diana non ci saranno sicuramente difficoltà. Ha bisogno di una casa calda, di un divano e di qualcuno che le faccia fare qualche passeggiata. Bene, grazie Elena, grazie a tutti i tuoi collaboratori del comunale. Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione, questa è una trasmissione dedicata a cani che hanno bisogno di noi, assolutamente, ma soprattutto di voi, quindi mancate voi, raggiungere il canile è semplice, grazie per l'attenzione, buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Grazie a voi. 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 L'Automobile Club Torino, che patrocinia dalla nascita videoadozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.